Eccoci di nuovo amici che ci seguite. Tempo per lo più stabile sulla nostra penisola, tranne sulle estreme regioni medioranali, dove l'azione della circolazione di bassa pressione sulla penisola balcanica favorirà piogge e temporali, specie sulla Calambria e sulla Sicilia. Ma andiamo oltre e vediamo cosa ci attende nel fine settimana. Una nuova espansione del campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale determina già condizioni in prevalenza stabili sull'Italia e così sarà anche nel corso del fine settimana. Bel tempo sull'Italia pertanto, stando alla media dei scenari prodotta dai modelli di questa mattina, salvo dei residui rovesci o temporali pomerigiani all'estremo sud, specie sui settori interni e qualche pioggia nella giornata di domenica sulle Alpi di Contine e sul Piemonte. Cieli non sempre soleggiati a causa del transito di innocui corpi nuvolosi e temperature in lieva aumento di qualche punticino specialmente sulle regioni occidentali e più in linea con la media del periodo. Con questo abbiamo concluso, seguite i prossimi aggiornamenti sul tempo in Italia premisso nel fine settimana.